Come potete vedere abbiamo una mandria di mucche a riposo. C'è la mucca che si fa al pisolino e la mucca che rumina. Questa ad esempio è di razza maremmana. Ora vi faccio vedere una mucca di origine francese. Questa mucca è allevata nella regione del Salers in Francia, zona centrale della Francia. Anche lei ha un bel paio di corna imponenti. Il suo manto è a rossiccio bruno molto folto. Qui abbiamo una coppia di asinelle, sono due femmine. Sono sempre vicine, si vogliono bene. La parola rumine deriva da una parte dello storico. La parola rumine è al stomaco della mucca. Che poi quando sono a riposo l'erba che hanno ingurgitato al pascolo viene di nuovo mandata su nella bocca e riviene mastificata di nuovo. La parola rumine è al stomaco. 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 A presto. Grazie.